Ciao bimbi, oggi leggiamo Per te vorrei e lo dedichiamo a tutti voi. È un libro di Ami Cruz Rosenthal e Tom Lichtenfeld, Nord-Sud edizioni. Per te vorrei cieli sereni e spensieratezza. Sorrisi in amicizia e tenerezza. Vorrei acque sempre trasparenti. E ovunque compagnie divertenti. Vorrei per te abbracci a non finire. E qualcosa che ti sappia stupire. Vorrei una cima da conquistare. E piccole sfide da affrontare. Per te vorrei momenti di intensa bellezza. Il sapore delicato della lentezza. Vorrei un riparo per ogni occasione. E giorni frizzanti come bolle di sapone. Per te vorrei tesori a non finire. E cieli stellati prima di dormire. Tutto questo vorrei. E forse anche di più. Perché quello che conta per me sei tu. Assolutamente. Durante le sayche. Anche le distrazioni come bolle di sapone. Tutto questo era il pò. Seguimi durum spesso senza uistare. Qualtica le bist하 featured. E intorsi da lentezza.